Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su Fall Guys anche oggi signori Cercheremo di ottenere una vittoria, ora signori miei, ecco il mio nuovo outfit Ovvero le mutandone della nonna con i cuoricini che sono molto carini e ci sono messi anche il caschetto con la faccia da lupo Così vediamo di fare paura ai nostri avversari e cercare di riuscire a conquistare qualche vittoria praticamente, prima o poi ci riusciremo Detto questo signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sempre sui social, mi trovate come Maullo941, link in descrizione E se volete donare qualcosa al canale per sostenerlo potete farlo sempre con i link che trovate in descrizione Detto questo, partiamo e andiamo a cercare la nostra prima vittoria, porca miseria Siamo un lupo mannara, siamo una tic-tac mannara Che carina, siamo una tic-tac mannara Raga, primo livello del video di oggi è Siso, non lo sopporto più questo livello raga, non lo sopporto più Non lo sopporto più, ma perché esce sempre questo? È antipatico, è brutto, è brutto questo livello Ma perché devo uscire sempre questo? Partiamo dalla prima posizione, vedete, vedete, vedete La tic-tac mannara già porta paura Porta paura ci ha fatto partire in prima posizione perché tutti hanno paura di noi Dai tic-tac mannara, dai tic-tac mannara Dai zia, dai così, il primo l'abbiamo portato Non cascare sulle ginocchia che perdiamo tempo Dai così, dai così, vai tic-tac mannara, vai tic-tac mannara No, 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 vai sul giallo Va bene, va bene, alzati, alzati, dai, 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 dai Non cascare, non cascare, non cascare, che ce la fai, non cascare, che ce la fai Non cascare, che ce la fai, grande la mia tic-tac Dai così, dai così, che sta andando bene, dai così, che sta andando bene Dai così, dai così, dai così, tic-tac Dai così, tic-tac, grande la mia tic-tac La mia tic-tac mannara, la mia tic-tac alza, ti alzati, non perdiamo il ritmo Non perdere il ritmo Dai così, dai così, dai così, bello, bello, bello Brava la mia tic-tac, brava la mia tic-tac Andiamo da questa parte, sì, 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 andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua Dai così, andiamo sul giallo, andiamo sul giallo che ancora è stabile Andiamo sul giallo che ancora è stabile Alza, alza di tic tac, non cascare, non cascare, non cascare Brava tic tac Allora, siamo in perfetto tempismo Siamo in perfetto tempismo, signorimi Siamo in perfetto tempismo No, 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 alza di tic tac Alza di tic tac Mannaggiotte Il fatto che siamo in perfetto tempismo Però fermi tutti Non c'è quasi nessuno dietro di noi, signori Dietro di noi non c'è quasi nessuno Possiamo gestircela con calma Mannaggia, sempre questa viola che si muove all'ultimo Sempre questa viola che si muove all'ultimo Dai così, dai così, dai così, dai così Grande, quel tizio che ho dando la facciata Ma ha favorito il passaggio Dai così, dai così Dove andiamo, dove andiamo, dove andiamo Di qua, di qua, di qua, di qua No, 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 no Mamma mia, mi sono salvato L'ultimo Dai tic tac No, no, no Mamma mia che salvataggio Mamma mia che salvataggio Scegliamo un punto dove io posso Ma guarda che non riesco a trovare il punto per saltare giusto Nel No, no, tic tac Bello così Siamo passati, raga Siamo passati Siamo passati Se magari si levano E lasciami E lasciami Ok, ventunesimi su quaranta Va bene così Mamma mia Mamma mia Che sta a fare il cavallo pazzo Perché fanno le lotte davanti il traguardo? Ma perché? Si divertono così praticamente Va bene Ognuno ha i propri modi di divertirsi Dai, dai, dai Va bene Abbiamo passato il primo livello Questa è tanta roba Questa è stata tanta roba, signori miei Le mutande a cuoricino portano bene Le mutande a cuoricino della nonna portano bene Incredibile L'ultima pedana Non riuscivamo a bilanciarle in maniera tale da poter saltare Sulla piattaforma finale Va bene Ok, una è andata Una è andata Vediamo ora qual è il prossimo livello Raga Prossimo livello Slime Climb Allora Ok Io l'ho fatto due volte solo Forse da quando gioco Fall Guys L'importante è non arrivare Non farsi prendere dalla lava Dallo slime L'importante è arrivare alla fine L'importante è arrivare alla fine Dico Con calma Con calma Ora tutti partiranno a razzo Partiamo anche noi a razzo L'importante è non farci prendere dalla troppa caciara Signore Ecco Tipo questa gran confusione che sta succedendo adesso Dobbiamo con calma farci la nostra strada Stiamo calmi Riusciamo a passare di qua Stiamo calmi Passiamo Ok Dai che si è passato Ok Va bene Va bene Occhio 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 Stiamo larghi Stiamo larghi Va bene così Va bene Stiamo larghi Ok Facciamo la curva Perfetto Ok Fino a qua ci siamo Fino a qua ci siamo Ora arriveranno tutti che romperanno le scatole E noi dobbiamo fare un saltino qui Un sal... No 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 Alzati 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 Siamo ancora in tempo Siamo ancora in tempo Se non ci continuano a spingere in maniera Ok Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Dai Ma perché mi dobbiamo spingere Mannaggia loro Dai 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 Calma 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 Oramai siamo Raga Se non riusciamo a passare adesso È finita Se non riusciamo a passare adesso È finita Se non riusciamo a passare adesso Siamo passati Siamo passati Zitti 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 Che siamo passati Zitti che siamo passati Levati tu zio Mannaggia a te Dai 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 che lo passiamo pure a questo livello Dai 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 ok ok calma 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 ok i tubi i tubi perché questi non rompono le scatole a loro Perché non si rompono le scatole fra di loro mannaggia porca miseria ce l'avevamo fatta raga Eravamo quasi arrivati eravamo quasi arrivati mannaggia mannaggia eravamo quasi arrivati e va bene E' andata così è andata così primo turno finito primo turno andato a quel paese Passiamo solamente il primo round e il secondo lo perdiamo malamente e va bene Arriviamo a 1031 punti forse riusciamo arrivare al secondo al sesto livello in questo in questo video Manteniamo lo stesso outfit signori miei col drago con la linguetta così col drago col lupo con la linguetta di fuori La nostra tic tac mannara e vediamo cosa se riusciamo andare meglio nel prossimo tentativo Oh finalmente cambiamo livello raga lit parade lit parade Quanto meno non è sì so signori miei quanto meno non è quello vediamo se lit parade riusciamo Ad arrivare in fondo riusciamo scusate mi è salito un attimo il pranzo ma non vi preoccupate sto bene sto bene Ok da che posizione partiamo che non mi vedo ok ma come faccio a festeggiare non posso festeggiare No calma 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 partiamo bene partiamo bene Rimaniamo sui tubolari giusti dai così dai Io devo smetterla di parlare quando io dico partiamo bene va a finire sempre male porca di una paletta Ambriaca allora stiamo calmi stiamo calmi riusciamo a passare dai così di qua siamo passati di qua siamo passati Ok di qua riusciamo a passare sì in qualche maniera con qualche spintone ma siamo riusciti a passare Dai così dai così dai così dai così mi aprite la porta Ho il pass c'ho il pass speciale per passare grazie mi hanno aperto la porta gentilissimi Occhio 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 bello così mamma che dribbling Ora se mi spingono dico non è colpa mia però se mi spingono non è colpa mia Dai 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 dribbling mamma che dribbling allora in 13 già si sono qualificati Dobbiamo riuscire ad arrivare in 26 dai 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 30 34 35 36 41 Nooo mamma così brucia tantissimo raga guardate dove mi hanno eliminato guardate dove mi hanno eliminato Così brucia tantissimo e niente raga continuo la nostra rincorsa verso una probabile vittoria Che secondo me non ci sarà mai sul Fall Guys ma noi continueremo a combattere fin quando questa serie vi piacerà Raga fin quando questa serie vi piacerà noi continueremo a combattere a cercare di portarci a casa una vittoria Detto questo io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie Qui nel frattempo il gioco sta andando avanti nella selezione di un livello ma noi non giochiamo più siamo stati appena eliminati Quindi va bene così detto questo signori ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao